buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dei pro delle probabili novità di norme scolastiche e per il 2022 prima domanda cosa si prevede che possa accadere sulla questione riguardante i docenti vincolati per un triennio nella scuola di titolarità la situazione dei docenti vincolati per un triennio nella scuola di titolarità a partire dall'anno di missioni ruolo soprattutto degli ultimi due anni potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni con l'approvazione di un emendamento ad hoc nella legge di bilancio 2022 la soluzione anche se parziale andrebbe a consentire la possibilità per i docenti vincolati di partecipare alla mobilità annuale con istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria già per l'anno scolastico 2022 2022 seconda domanda la formazione obbligatoria dei docenti sulla sicurezza sulla privacy e sull'inclusione sarà definita dal nuovo contratto scuola il nuovo contratto scuola in particolare appunto quello 2019 2021 avrà tra le norme previste quella di regolarizzare la formazione obbligatoria dei docenti dovrebbe essere specificato che si tratta di formazione da svolgere in servizio quindi prevalentemente con esonero dall'insegnamento oppure nelle ore dedicate alle attività collegiali si farà riferimento alla formazione sulla sicurezza sull'inclusione e sulla privacy e il trattamento dei dati personali domanda 3 il rinnovo del contratto scuola troverà una soluzione economica oppure rischiamo di non trovare nessun accordo nemmeno del 2022 il momento è delicato dopo lo sciopero del 10 dicembre qualcosa si sta muovendo tra le pieghe del bilancio si sono trovati più di 3 miliardi di euro qualche centinaio di milioni di euro di questi 3 miliardi verrà indirizzato sulla scuola per aumentare proprio gli stimendi degli insegnanti se tali risorse dovessero essere adeguate si potrebbe trovare un accordo già nei primi mesi del 2022 vi salutiamo e vi ringraziamo rimanete sempre collegati con noi per le novità nel sito www.technoscuola.it e seguidici anche nei nostri social arrivederci grazie a tutti